La principessa Anna ha ribaltato la sua immagine pubblica dopo essere andata a lungo raggio, secondo un autore reale.La principessa Anna è oggi uno dei membri più amati della famiglia reale. Ma la principessa reale ha affrontato dure critiche durante i suoi primi anni come membro di lavoro dello studio a causa di una lotta per la sua immagine pubblica e il suo ruolo, ha detto un commentatore reale, l'esperto reale Ian Lloyd, autore di The Duke, 100 chapters in The Life of Prince Philip, ha dichiarato a Express.co.uk, nei primi anni 70, quando la principessa Anna aveva circa 20 anni, hanno cercato di renderla la principessa delle fiabe, erano cercando di replicare la principessa Margaret degli anni 50, Margaret era una bellissima principessa delle fiabe. Hanno provato a farlo con Anna. L'hanno messa in crinolina e hanno fatto scattare queste fotografie in scatti da sogno e fondamentalmente lei non ce l'aveva, non era il tuo tipo di principessa delle fiabe. Quindi è stato abbastanza frustrante all'inizio. Ricordo che sono andati in America in un tour con Charles e ha ottenuto il titolo di Princess Auerpuss perché doveva essere un'offensiva di fascino, ma odiava ogni minuto e odiava la copertura della stampa e ha semplicemente fallito. Punto L'unica figlia della regina accompagnò il principe Carlo a Washington nel 1970 per una visita di due giorni che includeva anche un incontro con il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Ma la stampa dell'epoca ha reagito negativamente all'apparente atteggiamento scostante della principessa nei confronti dei media e alla sua decisione di non rilasciare interviste. Tuttavia, ha osservato Lloyd, mentre affrontava una cattiva stampa. La principessa reale ha lavorato dietro le quinte su progetti a cui teneva tra cui Save the Children, un'organizzazione con cui è stata associata da più di cinque decenni. Ha detto, è molto affascinante come ha cambiato la sua immagine, perché è andata a lungo raggio.